Davide, cognome, Sidi, data di nascita, 29 6987, professione, pittore, segni particolari, autodidatta Autodidatta, sì perché noi abbiamo scoperto che questo è veramente il principale motivo di grande curiosità che crea la capacità di essere così bravo di Davide Sidi Buongiorno Davide, buongiorno Davide, bentrovato Allora se vuoi puoi anche abbassarti un po' il microfono appena appena perché vedo che... Sì, si pensa, ci può Ok, almeno non ti copre il viso rispetto a Sandro Murru è meglio tenerlo un po' più basso Allora, dicevo, l'Accademia d'Arte Santa Caterina, inizialmente Accademia di Pittura Figurativa, insomma è un'accademia che ti riguarda da vicino, no? Sì, esattamente, è una scuola che ho fondato con un amico e collega, Antonello Pintus Nasce proprio dalla difficoltà che ho trovato io iniziando qua a Cagliari, ho dovuto fare tutto ad autodidatta E con Antonello abbiamo pensato di fondare una scuola che potesse dare l'opportunità ai giovani, ai ragazzi di studiare qualcosa Sembra sempre che la pittura sia qualcosa per quelli che sono un po' meno social, nel senso, spiego E se poi ti puoi, te lo avvicino io, il microfono così, esatto, come alla radio, Davide Spiego questa idea, o perlomeno questa discussione Chi fa un certo tipo di percorsi nella vita da un punto di vista letterario, piuttosto che culturale, attraverso un'arte che è la pittura che è straordinaria Pare sempre che sia quello che si è un po' estratto dal gruppo e abbia cercato una strada un po' più intimista No? Meno, però non lo so se è il tuo caso No, cioè non penso, non direttamente Tu comunque sei uno che vive molto in mezzo alla gente Molto in mezzo alla gente, anche perché poi dalla vita quotidiana che uno poi prende spunto anche per le opere Quindi è naturale che lo debba stare in mezzo Però sarai uno un po' più riflessivo Perché il concetto, perlomeno l'idea che si ha di un pittore, che sia uno che abbia, si metta lì del tempo proprio a pensare alle proprie opere E poi una volta che le ha pensate a metterle in una tavola e poi a cominciare a costruirle Ha anche meno tempo, in effetti, per dilettarsi nelle altre cose fimmere della vita Per te com'è arrivata questa passione? Beh, in realtà è una passione che ho sempre avuto e poi, finite le superiore, ho cominciato per conto mio a sviluppare appunto un po' di tecnica Ho fatto qualche mossa e da lì ho capito che poteva diventare anche un lavoro Però sentive questo fluscio magnetico dentro? Beh, sempre un'esigenza all'inizio soprattutto, cioè proprio una spinta che uno ha e vuole farlo Ecco, adesso faremo vedere un po' di tuoi lavori Tu sei pittore acquarellista, vogliamo già spiegare la differenza perché poi ci sono tante sfumature che fanno la differenza Allora, io sono pittore figurativo nel senso che il lavoro prende uno spunto principalmente alla realtà come si vede anche nei lavori che stanno passando Beh, c'era del sushi prima se non sbaglio Sì, c'era Sì, c'era Lo so, c'è, questi sono funghi Funghi, sì Faccio sì, solo roba culinaria Ah beh, allora fai venire fame Possiamo cucinarli? Eh, questi no, mi sai di no Questi no, sto chiedendo Guarda che bello Quindi parto dal figurativo e poi come tecnica lavoro principalmente con l'acquarello La presa da una fotografia In genere faccio io la fotografia, studio quindi le luci e le ombre, poi dalla foto sviluppo il quadro Esatto Ok, quindi questo tuo iniziare una carriera da pittore non trova nessun tipo di precedente in famiglia o? In realtà no No, ok, sei tu infatti molti che iniziano magari questo tipo di avventure, di carriere è perché hanno avuto degli spunti Tu, è proprio tutta farina del tuo sacco Da lì a pensare di diventare, di fare un'accademia, insomma, di diventare insegnante Il passo è molto breve, però tu mi pari molto giovane quindi l'hai fatto anche molto in fretta Sì, diciamo che ho un po' bruciato le tappe forse Sì, questa è la cattedrale di Cagliari? Sì Sì, sì, è in Castello Esatto Che meraviglia, sì, la scorgo tutti i giorni dal balcone della radio Ah sì Sì, proprio così E questo invece era in Castello Quello era in Castello della zona di Parma Ma questo è di nuovo il ghetto vicino a Cagliari Diciamo che Cagliari mi dà molti spunti Soprattutto poi anche per le luci che offre la città Eh beh, certo I panorami, le viste che ci sono Sì, Cagliari è affascinante per voi pittori Assolutamente C'è molto appeal per quanto riguarda la scuola Cioè i ragazzi rispondono Perché poi dicono Ma c'è come vuoi fare il pittore? Che è così difficile Perché è precario come lavoro Dico bene È molto precario Disgiochi, anche i disgiochi sono molto precari O i conduttori televisivi Ma secondo me non c'è veramente un lavoro che dia No, non esiste più un precariato Precario per precario Bravissimo Io sono del parere che in questi ultimi anni Quelli che in famiglia trovavano sempre difficoltà nel dire Mamma voglio fare il pittore Piuttosto che voglio fare il canciatore Piuttosto che voglio fare il cantante Oggi non si sentono proprio più dire Eh prendi il pezzo di carta che è quello che è il tuo futuro Perché si è talmente assottigliata la possibilità di fare anche quel pezzo di carta in mano La professione per la quale hai studiato Non dà più sicurezza E a questo punto c'è una parità di possibili occasioni Infatti l'idea dell'Ottobre è che con l'Accademia presentiamo un progetto Di formazione professionale per giovani che vogliono fare i pittori Certo Che non rilascia nessun attestato Però l'idea è quella di dare appunto gli strumenti Per sviluppare la professione pittorica Comunque scusami E sempre Adesso andiamo a retroso nella storia Avere in famiglia un pittore Era Ho fatto di grande aristocrazia anche culturale e sociale Un pittore Un tempo sì Oggi magari È la verità Sì 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 C'erano i magnatti che si ricontenevano Ti ricordi Tra Pappi, Re, Monarchia Sì diciamo che oggi è un po' più complicato Fare delle esposizioni Trovare delle sale Avere i fondi per autopromuoversi Perché poi alla fine di questo si tratta Infatti è È tutta autopromozione Difficile Quando un pittore espone in grandi mostre Quando In genere quando è già arrivato quasi Quando ha fatto il botto con un quadro Ancora resistono purtroppo i vari Monet, Manet, Picasso Quelli saranno i termini Fanno parte dell'antologia Dopo quelli Non so Devo tornare a Sgarbi quotidiani Per parlare di pittura Di quadri Di quant'altro Oppure a quelli che te li vogliono vendere Nelle televisione Perché poi Sì In televisione È una cosa un po' particolare Perché in effetti È una continua alternanza Tra lavorare Dipingere E poi trovare il modo Anche per proporsi Sgarbi era riuscito A far piacere In quel quarto d'ora O quanto era Insieme Tra l'altro A un nostro amico Al regista Martinez Filippo Martinez Che era il regista di Sgarbi quotidiani Che salutiamo A far piacere Quella Quella Diciamo Parte magari anche un po' Impollosa Un po' difficile da digerire Che era la spiegazione di un quadro Perché davanti Allora era bravo Io mi sono sempre domandato Quelli che Perché io Io sono il popolano Proprio della serie Sono andato a Louvre Ho girato Che grandioso Ho visto il Google Ma ho visto Un po' di cose le ho viste Ok Anche a San Pietroburgo Il museo di San Pietroburgo Bellissimo Che adesso mi sfugge il nome Però stavo pensandoci Fabio Tu che sei sul pezzo Mi senti? Se mi senti forte e chiaro Il museo di San Pietroburgo Non mi viene in mente adesso il nome Il nome del museo Il nome del museo No non è quel Vabbè Comunque sia Al di là di questo Mi sono sempre domandato Come uno davanti a un quadro A dica Ah però vedi Qui il pittore Ah però vedi O comunque come ti spiegava Sgarbi Qua il pittore voleva Come viene fuori Tu ti trovi davanti Non ai tuoi Ma ai quadri di altri Riesci a capirli? Dipende anche da quello che c'è Ci sono secondo me Diversi livelli di lettura dell'immagine Prima di tutto È quello che ti colpisce L'immagine L'ermitage Ecco l'ermitage di San Pietroburgo Beh è vero che c'è la componente Del soggetto Vero? Sì sicuramente Perché lo dice anche Sgarbi questo Ti sto attento a queste cose È quello Non so che ti colpisce l'immagine E quindi non c'è un fatto di tammeno che Non sia un quadro impressionista Per esempio di questo quadro Bellissimo Due barche che sono lì Dacci un giudizio Dai Questo però è mio non vale Beh ma lui lo avrà Ma io voglio sentire Lui come fa sgarbi Come fa sgarbi Quello che arriva a me Sinceramente Desso che è il soggetto Che guarda Che è il primo colpito Quello che arriva a me È un po' di malinconia Da un punto di vista Delle due barche Che sono lì E sono anche un po' Vecchiotte Quindi un po' abbandonate E però Allo stesso tempo Se vogliamo Non so se sia Una raffigurazione Di barche Di pescatori sardi Se vogliamo Sì sarà Cagliari La grande cultura Appunto Che si può evincere Da chi ha scelto Di fare il mestiere Del pescatore Adesso io voglio Sgarbi Allora Pittore Sgarbi Adesso Davide Da oggettivo L'opera L'opera Adesso bisogna dire Il critico Mi critico Va bene L'opera di prima Era proprio un po' Un richiamo A mettere un po' L'attenzione Su aspetti belli Che si stanno perdendo Della nostra cultura In generale Della nostra associazione Comunque Secondo me Quello del pittore È anche un mestiere Che deve far riflettere Cioè deve far riflettere Riflettere gli altri Nel senso che Tutto il lavoro Si concentra Su cercare Gli aspetti Che si stanno perdendo Della nostra cultura E società E metterli di nuovo Un po' Sul piedistallo Facendo anche vedere Che appunto Hanno un valore Per quanto oggi Magari non siano più Cose utili Se vogliamo Una vecchia barca Si usa molto meno Di un nuovo peschereccio Quindi vi propone Anche costume Fatti E paesaggi del passato Sì Non proprio nel passato Però magari cercare Nel presente Qualcosa Che si sta perdendo E che comunque È bello Bisogna valorizzarlo Filo conduttore Dall'arte pittorica Di questo maestro Non è altro Che quello Che stavo leggendo In bassa frequenza Che pensano Anche di là Dalla regia A parte il fatto Che sia Cagliari A fianco alla stazione marittima Mi sembra Quel quadro lì Il bello Della tua pittura È che se appunto Riconosci Il posto Hai richiami Da quel posto E le atmosfere Che ti arrivano Sì infatti Per quale motivo Io ho subito Avuto quell'impatto Perché Dico la verità Non avevo Di questo quadro Che se vogliamo riproporre Lo possiamo riproporre Non avevo Riconosciuto Il fatto Che fosse Cagliari A fianco alla stazione marittima Però avevo riconosciuto Che fosse Cagliari In qualche modo La Sardegna Ma d'impatto Quello mi è No no Io subito Appena Lo vabbè Bello Bello Infatti È un pezzo Infatti la cosa Diciamo che Secondo me È un quadro Qui farei più fatica A capire Qua è preso Dalle saline Ecco Dalle di Macchialina Esatto Infatti Sì Sì Diciamo che È un quadro Almeno per me Raggiungo l'obiettivo Al momento in cui Una persona mi dice Guarda Passo lì Tutti i giorni Non avevo mai notato Questo dettaglio L'ho visto nel tuo quadro Che meraviglia A quel punto Propone anche i dettagli Wow Questo È il tramonto Questo è il tramonto Dalla collina di Bolaria Questo è un quadro Per imprimere Emozioni Su una tela Grazie Che credo che poi sia Il risultato migliore Guardate Questa sembra una foto Si sembra una foto Straordinario Ci fermiamoci alla pubblicità Torniamo tra poco Con Davide Sidi Ancora prima Andremo al telefono Con Claudio Simbola Blog a Maria Invece Davide Sidi È qui È vero Esiste Sì Io Il termine Potete Guardi Mi è suggetto Fammi parlare Non è caso Due volte Uno dice Non sento Non sento Io mi preoccuperei Ma è vero Io ogni tanto Al telefono La verità Faccio tremendamente Fatica Quando lo parlo E poi la cosa meravigliosa È che ha due telefonini Di cui uno Se tu lo utilizzi Per cercare di sentire Chi ti sta parlando È praticamente impossibile E per il 90% Usa quello Avevo capito Avevo capito No Il concetto L'avevo capito Ma oltre al concetto Lui che fosse Torniamo Torniamo All'arte pittorica Di Davide Sidi È immenso questo pittore È immenso Devo dire Proprio di sì Cioè Esiste nel Tanto lavorare A parte Quanti anni sono Che ormai fai questo Di lavoro Da cinque anni Ok Però In questi cinque anni E in tutto quello Che hai fatto Esiste Come per un cantante L'opera prima Cioè L'opera migliore L'opera alla quale Si è più attaccati In realtà Ogni opera È un po' La ricerca Di un lavoro Perfetto Tra virgolette Poi non si raggiunge mai Però diciamo Di tutti i quadri Che ho fatto Da quando ho iniziato Ne ho fatto Forse 400 e passa Wow Quanti 400 e passa Che fa parte Di chi fa l'artista Noi che facciamo Il mestiere Tra virgolette Degli artisti Ma insomma Dico tra virgolette Tra virgolette Perché L'arte vera Sì È anche quella Di sapere Utilizzare La parola Come strumento È un'arte Anche questa Però L'arte più arte È la vostra La tua Di chi fa il cantante Eccetera C'è questa sorta Di Autolesionismo Io lo chiamo così Che però Fa parte di tutti noi A partire da me Che quando riascolti O riguardi una cosa Che hai fatto O ti rimetti davanti A un quadro Che hai dipinto Difficilmente Sei tu il primo A dire Oh cavoli Che bello Quindi difficilmente Vale quei 10 Che hai detto Verissimo Sì Assolutamente Ma secondo me È masochismo Proprio Allo stato puro Non lo so Però magari Forse hai voglia Di perfezione Cioè nel senso Sei talmente Rigoroso Con te stesso Che vorresti che A tutti piacesse Prima di tutto Perché è sempre così E che poi Fosse talmente perfetto Che non ci fosse Niente Da dover dire Ma qui non mi è Piaciuto più Esatto È più quello Però fa parte del gioco Alla fine Sì Ma è bello anche quello Senta Parliamo dei mostri Allora tu vai in giro In tutta l'Italia O solo in Sardegna No Ho fatto espostosi In Italia Che poi ho partecipato A alcune collettive Anche fuori dall'Italia Ho fatto una a Parigi E una ad Atene Come si entra In questi circoli Beh Alla fine Come fa Un giovane pittore È un po' Un insieme Di situazioni casuali In cui magari Si comincia Esponendo In una situazione In cui Nasce un contatto Di una persona Che ha visitato la mossa Ti invita un'altra Conosci Chi organizza Magari La mossa Si Si È entrato nel giro Di quelli No Poi c'è da dire Che oggi Anche il fatto Di Logicamente internet Aiuta tantissimo Se uno cerca Acquerelli Di un certo tipo Magari entra nel mio sito E trova Gli acquerelli Da lì Magari può nascere Un invito E quindi È un po' Tutta una serie Di cose casuali Adesso Mi vorresti Fermare Su una cosa Lui ha detto Come abbiamo detto prima Pittore acquerellista Il 99% Di noi Io credo Anche io Nati Dicendo Acquarelli Cioè Gli acquarelli O gli acquerelli In realtà si può dire In tutti e due modi Quindi No 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 Accuarellisti Con l'A Con l'A Ok No e siccome Io ho sempre detto Con l'A Acquarelli Ok va bene Va bene Senti ma i primi quadri Alla fine cosa succede Come le prime cose Che si fanno in famiglia La prima poesia per Natale Ecco c'è la recita Ha imparato Davide ha imparato la poesia Adesso a Natale Tutti soliti sul divano Cioè i primi quadri Vengono fatti Vedere O dati Regalati alla famiglia Ai parenti In realtà hanno Una cosa un po' più mia Come dicevi prima Una cosa un po' più Intimista Alla fine Quindi i primi quadri Li ho fatti Per conto mio Per puro piacere Poi un amico Mi ha convinto A fare una piccola esposizione Chi ti ha detto Per primo nella tua vita Oh va che Tu hai le carte Per fare sta roba Allora Mi ha convinto Il mio compagno di banco Delle scuole superiori Perché Non sono molto appassionato In matematica Quindi durante le ore Chiedo scusa Alla professoressa Alla professoressa Se sta seguendo Disegnavo Durante le ore di matematica Abbiurava la matematica E quindi Poi da lì Piccola Sì 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 Sette per otto Sette per otto Cinquantasei Meno male Ci ha pensato un po' Un po' troppo Però va bene Aspetta Questa è imparare la memoria Non ha senso con gli anni I tabellini sono così No Ma con gli anni Io neanche così Ma con gli anni Quando non le frequento Sto andando verso 70 anni Sei per otto Sei per otto Il problema è che Non ci si Col tempo Subito Immediatamente C'è vero Non ce l'ho Perché non ha Cato Quindi stai dicendo Che sei vecchio Oggettivamente Sono leggermente Stagionato Mi piace questa versione Sempre ottimista Ed è giusto Che sia così Il presidente Vecchio leone Senti Per arrivare A farne Un'attività Che sia Redditizia Veramente Va bene L'accademia Perché forse Quello è il mondo L'insegnamento Ti garantisce Una sorta di Piccola isola felice Dove Se ci sono gli allievi Uno stipendio Te lo puoi Costruire Ma un pittore Per vivere di pittura Col proprio quadro Un po' come Il calciatore di calcio Quindi il professionista Dello sport tal dei tali Come Cosa dovrebbe fare Chi dovrebbe valutare Quel quadro E dire Questo è un Sidi Signore Dovrebbe tornare Ai mecenati Del 500 Trovavo un mecenato Del 500 Come fa un quadro A prendere valore È difficile Dipende Da una serie di calcoli Purtroppo matematici Quindi anche O di difficoltà Ma non solo Che sono Non solo quelli Logicamente Una qualità Della pittura Però poi sono Una serie di valutazioni Che dipendono Anche per esempio L'esposizione Esperto d'arte Che dice Questo quadro qui Caspita Questo In realtà Quello è sempre relativo Perché può capitare L'esperto Che ti dice Questo quadro E poi però A livello di mercato Non lo vendi Alcuni tuoi quadri Sono valutati O di valutazione È più una valutazione Un prezzo Un minimo Nel senso Che io propongo I quadri Ce ne sono alcuni Di valore A parte affettivo Ma di valore Quanto è un quadro Quanto potrebbe valere Non voglio sapere Economicamente Non dimmi la cifra Esatta Però Che hanno Un importante valore Diciamo che la quotazione È a centimetro quadro Quindi banalmente Il quadro è grande Più costa All'interno C'è anche l'aspetto Matematico Quindi bisogna fare Come quando costruiscono Le case In base ai metri quadri E poi c'è L'aspetto artistico La valenza Della creatività Pittorica E non apprezzo Qual è il quadro A quale sei più affezionato Cioè qual è proprio Fisicamente Allora uno di quelli Che mi piace di più È la sequenza L'abbiamo visto Quello con i toni verdi Ma non no Gli dai dei nomi E il quadro Sì Poi Questo si intitola Plus Leggera A Lussemburg È una foto Che ho scatato In un parco a Parigi Mentre questo qua Proprio C'è una pioggia Ligerissima E si è creata Quest'atmosfera Molto particolare Questi sono tutti I passaggi di lavoro E a questo sono Particolarmente Affezionato Perché a parte Che mi piace Qual è il finale Dei passaggi Il finale Dovrebbe essere Questo qua Mi piace molto Perché in questo Uno di quei pochi Che dico appunto Mi piace Poi questo L'ho proposto Al cartiere Fabriano Ed allineata Una sponsorizzazione Da parte loro Una collaborazione Che sta ancora Andando avanti Adesso noi Che siamo ignoranti Ma veramente In questo settore In tanti altri Del resto Tranne lui Che è la cultura Di questo programma Io faccio la parte Più becera Dove hai esposto Quanta caratura Davide Sidi Nel contesto Artistico Della pittura Ad acquerello O ad acquarello È sempre difficile Da valutare Cioè se è un artista Di caratura nazionale Comunque Non te lo sai dire Non potrebbe dire Perché io faccio No perché a volte Ci troviamo davanti Come è già stato Ma dalle cose Che ha detto Ma ci arriviamo noi A parte guardando Il quadro di prima A quale tu sei affezionato Ripeti mi il titolo Più leggero Lussemburg Più già leggerà Sì sì Io credo Sì un pittore Molto quotato Possiamo rifarlo Guarda No guarda il dettaglio Delle statue E appunto Di tutto ciò Che ne sta anche Intorno anche Gli alberi sulla destra Ma proprio Della statua in fondo Quella che Sembrano vere Cioè sembrano Proprio immagini Sì 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 Poi l'idea è quella Di avvicinarsi Il più possibile All'immagine Per lasciare sempre Quella atmosfera Che non è fotografica Ce ne sono tanti Più avanti Avremo anche Roberta Congio Che è un'altra Bravissima Artista Ma delle immagini Quindi del ritratto Appennavic Cioè fa delle cose Che sembrano delle foto Io amo Adoro E rimango affascinato E quindi Il mio applauso Anche per te Davide Sta proprio in questo Nella capacità Di saper riprodurre Delle cose Che sembrano Delle immagini La colorazione Lui lo sa meglio di me È una delle cose più difficili Abbiamo finito E lui riesce C'è un Facebook Dove uno può venire a vedere C'è la pagina Che il sito Internet Va bene Allora Cercate Davide Siddi E potrete godere Delle sue grandi opere Grazie 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 A domani Non si preoccupi Domani Torneremo a proposito Come sempre Alle 8 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti